Pesaro 20-24 accoglie Circo l'Art Montefeltro, una nuova rete nata per celebrare e promuovere l'arte dei talenti di questa importante fetta del territorio della capitale italiana della cultura. Arti diverse ma legate dalla stessa terra, quella di Giulio Serafini, Gianni Calcagnini, Luciano Baldacci e Cristian Ceccaroni, ovvero i quattro artisti che hanno dato vita al sodalizio sostenuto dal comune di Tavoleto e da quello di Montecalvo in Foglia. Paese quest'ultimo che metterà a terra la prima espressione di Circo l'Art Montefeltro dal primo aprile, quando sarà protagonista della settimana del progetto 50x50 capitali al quadrato. Se riusciamo a mettere in piedi una struttura che ci coordina o ci coordiniamo o qualcosa in divenire, probabilmente tutto quello che noi facciamo, abbiamo fatto, poi rimarrà, perché altrimenti cosa lasciamo a quelli che verranno dopo? Noi siamo abituati a vedere tante cose che qualcuno prima di noi ci ha lasciato. Noi rischiavamo di perdere energie positive facendo tante iniziative senza avere uno scopo finale. Invece adesso ci siamo messi in testa di creare quasi una DOP, cioè di prodotti completamente diversi ma che vengono da un preciso territorio, allora ci identifichiamo col territorio e con un marchio. Progetto che è nato rispetto a Circo l'Art che tiene insieme quattro artisti con Serafini, con Baldacci, con Ceccaroni e con Cacagnini e che farà da corollario a tante altre iniziative a cavallo delle settimane, una delle prossime da capitale sarà a Montecalvo proprio dal primo aprile per poi seguire con Carpeghi, Montecelignone, chiuderanno con Tavoleto e questa base di collaborazione tra artisti sarà la base di esposizioni, mostre, incontri che accompagneranno tutto l'anno, metteranno di focus specifici ovviamente a partire dalla settimana in cui ognuno dei comuni che ho citato saranno capitale ma saranno progetti trasversali di raccordo e di connessione di tutti i quattro i comuni ma anche di tutto il territorio che ci sta in mezzo, soprattutto anche di tutto il territorio della comunità culturale che guarda queste forme espressive.